Musica Presso la casa di guardia della Diga del Menta, nel comune di Roccaforte del Greco, il presidente della regione Mario Oliverio e il commissario liquidatore della Sorical, Luigi Incarnato, hanno presentato nel corso di una affollata conferenza stampa l'avvio dei lavori per il completamento dello schema idrico della Diga del Menta. Il governatore Oliverio ha dichiarato che questa della Diga del Menta è la prima di una serie di incompiute che ci impegniamo a portare a compimento. Inizieranno finalmente i lavori che sono stati bloccati da cinque anni senza che nessuno se ne sia mai interessato affinché possano essere conclusi entro un anno e fornire l'acqua della città di Reggio Calabria. La prossima settimana affronteremo la Diga del Metramo e altre che saranno oggetto per l'avvio dei lavori del completamento. La realizzazione della Diga è iniziata più di 30 anni fa, una Diga sulla quale sono stati investiti 130 milioni di euro e lo scopo del progetto è quello di fornire acqua d'uso potabile attraverso la realizzazione di uno sbarramento sul Torre Menta. Una Diga che è iniziata oltre 30 anni fa, una Diga per la quale sono stati investiti oltre 130 milioni di euro, una Diga che serve a fornire l'acqua alla città di Reggio Calabria e quindi alla più grande città della Calabria, una Diga che consente di fruire della risorsa acqua per uso civile e per un pluriuso. Noi abbiamo posto l'attenzione sulle grandi incompiute, questa è la prima delle grandi incompiute che riparte. Nelle prossime settimane affronteremo altre grandi incompiute a partire anche dalla Diga del Metramo, anche questa una grande Diga per la quale sono stati investiti decine e decine di milioni di euro e rimasta da oltre 30 anni anche quella non fruita e altre incompiute che saranno oggetto di interventi concreti per il riavvio dei lavori e il completamento. Questa Diga, quella del Menta, pensiamo di portarla a buon fine con il completamento dei lavori entro un anno. Abbiamo attivato più interventi, più iniziative, tre di queste iniziative sono già oggetto di riapertura dei lavori. Una quarta iniziativa che interessa la realizzazione di un bypass in attesa che si realizzi la galleria per collegare l'invaso con la condotta di adduzione dell'acqua fino alla città di Reggio Calabria, interventi che saranno realizzati anche a valle del depotabilizzatore per le adduzioni e quindi più fronti di intervento che ci consentiranno di completare quest'opera entro un anno.